è rifiusi a s m r salve ragazzi benvenuti come state? spero tutto bene oggi faremo una sm r e venga a tema halloween siete pronti? 1,2,3 GO! 1,2,3 GO! 1,2,3 GO! 1,2,3 GO! 1,2 GO! 1,2 GO! 1,2 GO! 1,2 GO! 1,2 GO! 1,2 GO! 2,3 GO! 1,2 GO! 2,3 GO! 3,4 GO! 3,4 GO! 1,2 GO! 3,4 GO! 3,5 GO! 1,3 GO! 3,2 GO! 3,5 GO! 4,5 GO! Uno, 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 uno! 4,5 GO! grazie Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. grazie no Buon appetito! 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 Buon appetito!